Carmelo Gioffria, allenatore del Boiano, arriva a questo primo successo in campionato casalingo 3-0 netto, squadra ordinata che ha trovato spesso e volentieri la profondità ed è stata letale negli ultimi 20 metri. Era fondamentale e importante il risultato perché giocavamo con una squadra buona che secondo me in questo campionato può dire tranquillamente la sua e per noi era importante il risultato, raggiungere l'obiettivo del risultato. Diciamo che dopo il 2-0 ci siamo sciolti un pochettino nel senso che eravamo più sicuri, più tranquilli, abbiamo cercato di più le nostre trame di gioco. Quando sei una squadra giovane che nelle prime due partite tu meriti e non raccogli niente allora può entrare quel timore, quella paura di giocare la palla. Come abbiamo trovato il secondo gol abbiamo iniziato a giocare quello che può essere il nostro calcio. C'è molto ancora da lavorare, c'è molto ancora da migliorare, però il tempo questo ancora ce lo permette, siamo all'inizio, quindi dobbiamo stare sereni e pensare che non abbiamo fatto niente. Un campionato che ha vissuto soltanto le prime tre giornate, che idea si è fatto un po' di questo torneo considerando che il Boiano è una squadra con ampi margini di miglioramento e che ha tutte le carte in regola per mantenere la categoria naturalmente? Il nostro obiettivo è quello di mantenere la categoria. Io credo che quest'anno è un campionato combattuto, che si può perdere contro l'ultima in classifica e si può vincere anche facile. Dipende molto dall'approccio che si ha alla partita. Io penso che quest'anno come non mai il campionato sarà difficile, fino all'ultima giornata sarà da battagliare sia in testa che in fondo alla classifica, perché gli equilibri delle rose e delle squadre sono più o meno allo stesso livello, quindi c'è da battagliare e da combattere per tutto l'arco del campionato.